Siamo nel 1995 per raccontarvi un caso che è davvero un caso mediatico, perché vittima è Maurizio Gucci, a 46 anni, è l'erede di una delle più grandi case di moda italiane. In realtà è una società in crisi, tanto che Maurizio stesso è costretto a cedere le quote ad una finanziaria araba. Poi c'è Patrizia Reggiani, la sua ex moglie, che infatti accusa Maurizio di non essere stato in grado di gestire la pesante eredità della Maison Gucci. Parleremo quindi, come è evidente, di soldi, di denaro, di grandi proprietà miliardarie, dalla casa di Saint-Moriz al magnifico veliero, il Creol, 65 metri di lunghezza. Ma parleremo anche di passioni naturalmente in questa storia, una storia che sembra davvero uscita dalle pagine di un grande romanzo e invece è una storia vissuta sulla pelle delle persone vere, che in modo alternato saranno le vittime e i carnefici. La vendita dell'impero Gucci rimane per lungo tempo sulle prime pagine di tutti i giornali, finché una mattina di marzo il marchio della Maison Gucci si tinge di rosso e non è un rosso alla moda, è rosso sangue. L'omicidio Gucci finisce, come ovvio, subito sulle prime pagine di tutti i giornali nazionali e internazionali. È un caso clamoroso, tutti ne vogliono scrivere. Lo definiscono il delitto del jet set, consumato all'ombra di una dynasty degli stilisti fiorentini. Anche perché questo omicidio arriva al culmine di un'esistenza felice. Maurizio è giovane, ricco, bello, non ha nemmeno più l'eredità di dover gestire la Maison Gucci. Dunque è libero, libero di cominciare una nuova vita con una sua nuova compagna, Paola Franchi. Ma il 27 marzo 1995 questo sogno si spezza a Milano. Buongiorno, dottore. Buon anno, guardate, 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 guardate. Grazie a tutti.